Quattro tartarughe, sempre pronte, sempre alletta, come i ninja. Quattro tartarughe, tutte identiche, d'aspetto, brutte, ninja. Allora, ecco, qualcosina che qualcuno di voi conosce. Lui è giù, che nella sua sala prove canta e mi allieta perché è bravissimo. Esattamente qua sotto, da qua sotto arriva il ritmo con il quale provare tutti questi lavori stupendi. Grazie, e oggi gli ho chiesto se poteva cantare questa sigla che voi sapete assolutamente, quanto io ci tenga. Ebbè, ma io sono cresciuto con le tartarughe ninja. Grazie! Certo, cioè, Raffaele, fantastiche, le guardavo sempre. Era un po' che non sentivo la canzone, però sì, poi è tornata qua. E ti volevo chiedere, così ci facciamo conoscere un po' meglio. Cosa ne pensi delle sigle dei cartoni animati? Perché io adesso ti chiederò, e tu lo sai che te le chiederò, tutte le sigle! Allora, tutte le sigle, tantissime quindi. Tandiamo tantissimo lavoro che ci aspetta. Io penso che le sigle dei cartoni animati siano delle canzoni, effettivamente. Trattano temi diversi, hanno ritmi diversi, come fanno parte comunque del panorama della musica italiana e non solo. E poi sono vecchi altri, le conosciamo tutti. Bravo! E quindi alliterai anche altre persone, spero? Ma io spero di sì. Perché io ti vorrei mettere nel mio canale. E noi ci entreremo molto volentieri. A tonsille aperte. A tonsille aperte. A tonsille aperte. Oltre il nostro grande, grandissimo progetto che non so se possiamo dirlo, ma io spero presto mi sposerò. E questo signorino, e questo signorino sarà il nostro cantante. È una bella responsabilità questa. Leggermente. Indovina perché l'ho chiesto a te. Per preparare una scaletta. Un anno e un poco più. Ovviamente. Tutto il tempo di fare un ottimo lavoro. E i cartoni animati. Beh, ovviamente. Ovviamente. Sarà un matrimonio a te, ma. Guardatelo. Ci sto, ci sto. Ok! Grazie. Ciao ragazzi!